il nostro percorso di oggi sarà per certi versi un percorso virtuale nel senso che i monumenti i luoghi che attraverseremo sono tutti collocati intorno ad un edificio che non esiste più nel quale però restano alcune tracce molto evidenti lo vediamo subito da questa fotografia della prima metà degli anni trenta nella quale compare la chiesa di san marco già costruito il palazzo delle poste che è stato inaugurato nel 1931 e soprattutto già tracciato quel quasi completamente non completamente come vedete quella via locatelli che oggi costituisce uno degli assi viari importanti del centro cittadino che però come in casi precedenti già analizzati in realtà è stata aperta relativamente di recente la zona che analizzeremo oggi è stata realizzata per gli monumenti più importanti tra gli anni trenta e gli anni cinquanta del secolo scorso ed è stato un prolungamento progettato con fasi alterne in quegli anni della grande rinnovamento cittadino costituito dal centro piacentiniano infatti vi mostro insomma questo grosso modo insomma sono gli edifici del centro piacentiniano mentre gli edifici che noi analizzeremo oggi sono quelli appunto collocati a nord di quel centro e realizzati sviluppati in un'epoca immediatamente successiva al progetto di piacentini in occasione dell'ultima lezione io ho dato per scontato la conoscenza del vicende storiche della fiera di sant'alessandro in realtà qualcuno di voi mi ha fatto notare che questa conoscenza non era così sicura e così scontata e quindi se mi permettete vorrei dire due parole a questo proposito la fiera di sant'alessandro è una fiera dalla tradizione molto antica risale addirittura all'alto medioevo abbiamo notizie pensate a partire dalla seconda metà del decimo secolo la fiera si svolgeva nel cosiddetto prato di sant'alessandro ormai conosciamo era allora una vasta zona aperta non edificata tra i due borghi principali della città e si svolgeva per 15 giorni a cavallo della festa di sant'alessandro per lunghi secoli la fiera era costituita da strutture di legno che venivano montate e smontate appunto annualmente ma a partire dalla prima metà del 1700 i mercanti cittadini hanno insistito molto con venezia perché venisse loro consentito di costruire una fiera di pietra e ovviare in questo modo agli inconvenienti che la struttura di legno spesso comportava viene così edificata e inaugurata nel 1740 una grande struttura in muratura caratterizzata vedete da un recinto esterno lungo il quale comunque si aprivano botteghe con quattro torresini all'estremità e una serie ortogonale di strade interne sulle quali si affacciavano decine e centinaia di botteghe oltre 500 abbiamo anche una documentazione fotografica abbastanza precisa della fiera perché la fiera è stata demolita a partire dagli anni della guerra per la prima guerra mondiale e quindi sono state molte le sono molte le testimonianze fotografiche di questo luogo che naturalmente all'epoca degli scatti fotografici si era già molto molto degradato ecco vedete quindi che il fronte meridionale dell'edificio della fiera di pietra era allineato lungo il percorso del sentierone all'interno le vie erano come vedete qui quindi le botteghe al piano terra e delle stanze di abitazione che dovevano essere temporanee nella parte superiore purtroppo la vicenda della fiera si è risolta poi velocemente rispetto alla data di costruzione già alla metà del 1800 la fiera non aveva più affatto il significato economico che per secoli aveva avuto così importante anzi ormai le attività di mercato di commercio di traffico si erano spostati o comunque si stavano spostando verso milano favorite anche dall'arrivo della ferrovia che collegava le due città e quindi la fiera diventa progressivamente un luogo via via sempre più degradato addirittura incominciano ad essere occupati gli spazi delle botteghe in modo stabile da famiglie povere di piccoli commercianti che vivevano all'interno delle strutture questo provocava un grande degrado pensate che non c'era nemmeno un sistema foniario in questa in quest'area quindi con il passare degli anni il luogo diventa un luogo di degrado come dicevo ma anche di delinquenza di prostituzione insomma la città avverte la necessità di risolvere radicalmente questo problema e infatti si progetta già a partire dagli ultimi anni del 1800 di demolire questa struttura e di sostituirla con un centro più decoroso e più adatto a rappresentare anche una città in sviluppo veloce come era la Bergamo di fine ottocento inizio novecento in questa immagine vediamo la fiera della città la fiera in muratura già parzialmente demolita ma la cosa interessante è che come vedete si è conservata al centro della struttura la fontana dei tritoni realizzata dai canian appunto in occasione dell'apertura della fiera nel 1700 che era anche il luogo questa fontana e il piccolo spazio verde che intorno ad essere stata aperta era il luogo in cui convergevano tutte le vie principali della della città quindi l'attuale fontana dei tritoni in piazza dante è ancora oggi indica il centro fisico dell'antica dell'antica fiera ecco questo è il progetto vincitore del concorso che è stato bandito dal comune di Bergamo per sostituire fisicamente la fiera di pietra che si era previsto di demolire e per dare un nuovo assetto dignitoso e soprattutto questo è un punto interessante completamente progettato alla città in realtà poi gli edifici non verranno edificati esattamente come piacentini li aveva previsti infatti questa è l'immagine del centro moderno ma insomma quello che a noi interessa osservare che davvero dell'antica fiera resta ormai solo il cuore rappresentato appunto dalla fontana dei tritoni con lo spazio verde intorno attualmente questa zona come sapete in corso di risistemazione e quindi siamo curiosi anche di conoscere quale sarà l'aspetto nuovo di questa piazza ecco questa è un'immagine della demolizione della fiera vedete è possibile intuire proprio la struttura interna degli edifici e questa è l'immagine della fontana isolata nel contesto delle demolizioni e intorno vedete già si stanno innalzando gli edifici del nuovo centro cittadino ed ecco che cosa stava al di là della fiera sulla sinistra vedete uno degli ultimi capannoni della fiera ancora in piedi prima della demolizione e sullo sfondo subito dietro si intravede anzi direi si vede bene la chiesa di san marco con un edificio a fianco che è appunto l'ospedale di san marco del quale vorrei parlarvi oggi e che sarà un po il punto fisico intorno al quale si svolgerà il nostro percorso odierno ecco questa è una veduta ormai la conoscete bene del nostro centro cittadino vi faccio notare che in questa veduta mancano alcuni assi viari importanti per esempio non è ancora tracciata la via ferdinandea che già noi abbiamo osservato che partiva sarebbe partita poi da porta nuova per raggiungere città alta ma ancora più importante nel contesto del nostro percorso odierno è osservare che mancava completamente la via tasca attuale così a maggior ragione mancava il suo prolungamento la via tasca faceva parte di un vasto spazio aperto che si chiamava piazza baroni che era uno spazio che separava il fronte nord della fiera che qui vedete dall'ospedale appunto dagli edifici dell'ospedale di san marco e infine ultima ma non ultima mancava completamente anche la via locatelli che abbiamo già citato una porzione della quale costituiva il lato est della grande piazza baroni ma che insomma sulla quale sul cui futuro percorso insistevano edifici legati all'ospedale ed eccolo qui un'immagine più completa della piazza baroni che vedete attraversata da questi personaggi e dell'ospedale di san marco la piazza e che separava come abbiamo detto la fiera dall'ospedale era uno spazio aperto molto frequentato dai bergamaschi soprattutto in occasione appunto della fiera tanto è vero che come alla fine del settecento di fronte all'ingresso sud principale della fiera era stato costruito il teatro riccardi poi donizetti anche questa zona in occasione delle feste legate a sant'alessandro diventava un luogo di spazio e di divertimento magari meno colto meno raffinato rispetto a quello proposto dal teatro per esempio sappiamo che nel 1882 viene innalzato in parte in muratura in parte in legno un teatro politeama che veniva chiamato givoli che qui vedete fotografato durante un'adunanza militare nella piazza baroni il teatro viene inaugurato nel 1882 e demolito poi nel 1897 sarà sostituito in una zona immediatamente adiacente dal teatro nuovo a tuttora esistente come sapete ma il legame tra la piazza baroni l'ospedale di san marco e la fiera era un legame molto stretto e legato proprio al rapporto che univa in modo molto intenso l'ospedale con le sorti della fiera stessa perché l'ospedale di san marco del quale adesso vi racconterò brevemente la storia era un ospedale stato un ospedale per secoli destinato all'assistenza dei poveri dei poveri ammalati dei bambini esposti insomma degli ultimi e quindi aveva necessità di proventi economici notevoli per poter reggere questa assistenza caritatevole bene i proventi all'ospedale venivano largamente dall'affitto delle botteghe della fiera che il vescovo barozzi che è stato uno dei fondatori dell'ospedale di san marco alla metà del 1400 proprio destinato alla istituzione caritatevole stessa appunto dicevamo che i luoghi della fiera erano luoghi di divertimento di spasso anche popolare nei giorni della fiera e lo vediamo molto bene dall'allineamento di queste baracche luna park lungo la zona meridionale della piazza baroni appunto riconosciamo l'ambiente oggi completamente diverso perché sullo sfondo a sinistra si vede molto bene la chiesa della comunità evangelica cittadina sopra che si staglia sopra gli edifici della della fiera e in lontananza al centro intravediamo anche il campanile della chiesa di sant'alessandro in colonna oggi naturalmente questi spazi sono completamente diversi non solo è stato creato l'allineamento viario della via petrarca e via tasca ma soprattutto sono stati costruiti gli edifici del centro piacentignano a sinistra vediamo la banca d'italia edificio della banca d'italia e l'edificio della procura della repubblica mentre sulla destra è stata aperta una nuova piazza che noi chiamiamo oggi piazza della libertà sulla quale si affaccia l'edificio più significativo dal punto di vista architettonico di questa zona e cioè il palazzo della libertà il palazzo della libertà viene così definito dopo il 1945 in realtà nasce come casa del partito fascista casa del fascio proprio in occasione del primo decennio della rivoluzione fascista si decide di dare un edificio prestigioso insomma a questa funzione e quindi a partire dal 1937 si dopo la demolizione dell'ospedale di san marco si dà inizio alla costruzione dell'edificio l'architetto abbiamo già citato è al ziro bergonzo un architetto molto vicino agli esponenti principali del regime in città un architetto che sa declinare in modo interessante le caratteristiche del linguaggio modernista in architettura razionalista e nello stesso tempo sa interpretare anche le esigenze di celebrazione di monumentalità del regime come molto bene vediamo nell'edificio che ha questa caratteristica di estrema essenzialità lineare nella sua struttura cubica con questo avancorpo di un colonnato gigante che vuole richiamare così il tema propagandistico della romanità così presente appunto nella propaganda di regime l'edificio viene inaugurato nel 1940 ma ancora non era completato e quindi di fatto poi alla caduta del regime giustamente la città se ne appropria per cancellare una memoria così terribile e dolorosa e riproporre l'uso di questi spazi in una chiave rinnovata e finalmente libera anticipo insomma un'indicazione che in realtà andrebbe riservata ad un ultimo sguardo sulla piazza e cioè la conclusione della definizione degli spazi della piazza così come erano stati concepiti dal bergonzo rappresentata dall'edificazione e la costruzione alla fine degli anni 90 della fontana e della collocazione della scultura dell'abbondanza di Elia Iolfi sulla sinistra entrambe i manufatti sia la fontana sia la scultura erano stati progettati già in occasione dei dei lavori di costruzione dell'edificio ma mai poi messi in atto qualcuno di voi ricorderà che per molto molto tempo questa piazza era un enorme sterminato parcheggio di macchine che poi per fortuna questa funzione è stata è stata modificata resta il fatto che forse proprio perché è stato legato a questo spazio un ricordo non positivo lungo forse perché a lungo è stato anche uno spazio di parcheggio di fatto questa piazza non è mai diventato un luogo di frequentazione reale per gli abitanti della città si tratta di uno dei numerosi errori di progettazione urbanistica che sono stati fatti e che vengono fatti nei nostri spazi urbani un grande enorme contenitore vuoto sostanzialmente inutilizzato quando si è deciso di demolire l'ospedale di san marco perché nel frattempo era stato costruito il nuovo ospedale dedicato prima alla principessa di piemonte poi come sapete bene chiamato ospedali riuniti nella zona di santa lucia molti progetti erano stati fatti perché sul luogo dell'antico ospedale venisse realizzata una struttura di tipo orbonistico che potesse collegare agevolmente il nuovo centro piacentignano con la funicolare e indubbiamente se fossero stati messi in atto questi progetti la città avrebbe avuto una possibilità di prolungamento del suo centro verso la collina e verso la città antica davvero interessante invece l'edificazione del palazzo della libertà di fatto ha interrotto questa possibilità di comunicazione che oggi probabilmente non è più nemmeno possibile recuperare all'interno l'edificio presenta caratteristiche di accuratezza nella progettazione di attenzione per la scelta dei materiali è davvero notevole che caratterizza un po' tutti gli edifici pubblici di quegli anni nel grande atrio è presente una grande pittura murale vediamo qui un pochino nel nel dettaglio realizzata da giuseppe antonio sant'agata un pittore di origine pugliese che ha interpretato molto frequentemente così gli ideali il contenuto del regime e i valori plastici di novecento il grande dipinto murale rappresenta la vita eroica di antonio locatelli non ha non è un'opera di particolare significato artistico se non nei termini in cui questo tipo di produzione può essere legato all'epoca che l'ha concepito e l'ha voluto lungo la gradinata che sale appunto all'atrio dell'edificio si stagliano dei altorilievi realizzati da artisti locali con le immagini dei personaggi più importanti della storia della città questi tre ritratti sono stati realizzati da nino galizzi anche all'esterno l'edificio ha un notevole complesso di decorazioni figurative vi ricordo la famosa legge del 2 per cento già citata che obbligava a investire una due per cento appunto dell'appalto in opere di artisti contemporanei a decorazione del monumento quindi ecco le formelle che sono collocate sulla facciata della del monumento opera di leone lodi un artista scultore cremonese di soresina che ha operato però prevalentemente a milano e che era pienamente inserito nel contesto del movimento novecento qui vediamo l'immagine del fabbro o vulcano leoni seguendo una logica anche sensibilità di regime mette insieme l'esaltazione delle attività produttive con i temi del mito e anche in modo davvero piuttosto improprio per noi oggi con temi di carattere religioso vedete il battesimo di san giovanni in questa immagine leone lodi è uno scultore che ha collaborato molto con l'architetto alziro bergonzo in città per esempio è frutto della collaborazione tra i due la famosa fontana chiamata zuccheriera in largo porta nuova bergamo bergonzo progetta la fontana per il proprietario del distributore di benzina che si trovava come ricorderete proprio a ridosso di questa di questa questo monumento mentre i rilievi sono di leone lodi così come frutto della collaborazione tra i due è anche la notissima torre dei venti che si staglia all'arrivo dell'autostrada a4 nella nostra città ecco di nuovo un'immagine della piazza della libertà come era prima del suo completamento vedete già siamo in una fase avanzata della trasformazione della città sulla destra intravediamo uno scorcio del palazzo della procura della repubblica del palazzo allora del tribunale è già tracciata completamente la via verdi ma mancano gli edifici che caratterizzano oggi la piazza della libertà una piazza che viene completata secondo il progetto originario appunto tra la fine degli anni 40 e prima anni 50 realizzando una sorta di piazza metafisica sul modello un po' de chirichiano che vede la presenza del palazzo della libertà come una presenza molto molto forte edifici che caratterizzano il luogo sono edificio residenziale detto la magione o edificio delle assicurazioni toro progettato da luigi angelini dal figlio sandro siamo alla fine degli anni 40 e il palazzo della borsa merci progettato secondo criteri di rigore di essenzialità analoghi ai precedenti invece da marcello piacentini ma arriviamo brevemente insomma alla storia di questo monumento che io davvero giudico importantissimo per la storia della città e cioè l'ospedale di san marco l'ospedale di san marco del quale oggi restano tracce davvero molto molto labili a parte per fortuna insomma la presenza della chiesa di san marco è stata una delle istituzioni principali della nostra città voluta alla metà del 1400 più esattamente nel 1457 dal vescovo barozzi già citato dal maggior consiglio cittadino del consiglio dei cosiddetti anziani e dalla serenissima repubblica come luogo nel quale far confluire tutte le disperse attività di assistenza ai malati che si trovavano in città erano davvero molto numerose quasi una ventina i piccoli ospedali affidati spesso fondati anche da ordini religiosi o da confraternite laiche che in città si prendevano cura appunto dei poveri ammalati dei viandanti e dei viaggiatori che arrivavano ammalati in città e anche di quelle categorie estreme di bisogno che erano i bambini abbandonati i cosiddetti esposti e gli incurabili ma proprio questa polverizzazione dell'assistenza pubblica era giudicato ormai alla metà del 1400 non più soddisfacente ai fini dell'esigenza di welfare cittadino diremmo oggi e quindi sulla scorta di quello che avveniva anche in altre città si decide di costruire un'unica grande struttura nella quale far convergere tutte le esigenze di carità medica diciamo così cittadine naturalmente l'erezione di un'unica grande struttura comportava la soppressione delle piccole e l'incamerazione di tutti i beni che quelle più antiche piccole attività assistenziali avevano nel tempo accumulato ecco l'aspetto dell'ospedale l'abbiamo già visto era era questo una grande struttura che prospettava con il lato sud sulla piazza baroni naturalmente l'ospedale ha avuto nel tempo trasformazioni ha subito ampliamenti anche legate alle necessità appunto di assistenza ma negli ultimi anni è stata ricostruita con una certa esattezza la sua storia sappiamo quindi che il decreto di fondazione è del 1457 ma che i lavori veri e propri di edificazione risalgono agli anni 1474 75 a bergamo ci vuole sempre un po di tempo perché le cose si realizzino è molto recente la scoperta di un documento nell'archivio dell'ospedale che indica come progettista della prima versione dell'ospedale un mastro giovanni antonio de pavia che ormai è direi da tutti riconosciuto come giovanni antonio amadeo giovanni antonio amadeo era in città conosciuto da tempo perché era stato il progettista e aveva seguito i lavori di esecuzione della cappella con leoni in città alta è lui l'architetto che l'ha progettata ed è sua la bottega che ha realizzato le sculture quattrocentesche di quell'edificio come sapete bene il fatto che nel documenti che riguardano l'ospedale e il suo progettista venga indicato genericamente con il nome di giovanni antonio senza un patronimico che invece è sempre presente per tutte le altre figure che vengono indicate nei documenti dell'ospedale sta ad indicare che si trattava di una figura molto importante molto prestigiosa che tutti in città conoscevano e del resto non ci meraviglia che l'amadeo venga coinvolto nel progetto dell'ospedale anzi forse il primo contatto con la città ancora prima che per la cappella con leoni potrebbe essere avvenuto proprio per il progetto della città e l'amadeo era coinvolto insieme alla bottega dei solari con la quale lui era imparentato e con la quale collaborava nella costruzione della Cagranda di Milano che era il più importante edificio di assistenza pubblica per i malati costruito in Lombardia per volontà di Francesco Sforza a partire dalla metà del 1400 quindi proprio la competenza acquisita dall'amadeo nei lavori per la Cagranda di Milano possono aver averlo fatto giudicare come la persona giusta per portare avanti i lavori anche nella nostro ospedale. Ora purtroppo noi non sappiamo quale fosse l'aspetto che l'amadeo aveva previsto per il nostro edificio. Sappiamo che all'inizio del 1500 un altro architetto importante questa volta Bergamasco viene coinvolto nella progettazione di lavori di rifacimento all'interno dell'ospedale e l'architetto al quale mi riferisco è l'Isabello. Pietro Isabello negli anni 30 del 1500 viene incaricato di completare la crociera adesso vi spiego di che cosa si tratta e di realizzare gli annessi cortili per l'ospedale di San Marco punto. Questo che vedete mi spiace molto labile il disegno insomma questo è un rilievo che è stato fatto dei cortili cinquecenteschi da parte dell'ingegner Donegani che nel 1800 è stato incaricato di metter mano all'impianto dell'ospedale e di riattarlo in chiave più moderna diciamo così. Questa è l'unica immagine che possediamo di un dei cortili interni dell'ospedale di San Marco così come il Donegani l'aveva riprogettato. Ma parlavamo delle crociere che l'Isabello viene incaricato di completare. La crociera altro non è che la costruzione di più bracci di grandi corsie ospedaliere destinate ad incontrarsi ad angolo retto. In questa fotografia dall'alto vediamo molto bene la struttura dell'ospedale di San Marco così come appariva negli anni venti del novecento prima della sua demolizione. Vedete che si tratta davvero di una struttura pianta a croce. I quattro bracci il quarto dei quali quello verso nord realizzato nel 1700 erano le quattro grandi corsie di cura degli ammalati erano i luoghi nei quali si praticava la cura degli ammalati. Ora erano quindi grandi spazi aperti sui quali si collocavano tutti letti per l'adegenza. Naturalmente uomini e donne venivano separati in padiglioni distinti e proprio come dire la dimensione e l'altezza dei soffitti e quindi la spazialità, l'aria che vi circolava servivano secondo le teorie sanitarie dell'epoca a garantire una migliore condizione di sopravvivenza per i malati. Ora noi sappiamo che le condizioni degli ammalati in questi spazi erano tutt'altro che accettabili in una logica contemporanea. Per esempio nel settecento proprio in occasione dei lavori di ampliamento della struttura viene fatta una richiesta specifica al vescovo perché conceda di collocare dei letti anche all'interno della chiesa dell'ospedale, quella che noi chiamiamo appunto chiesa di san marco perché si necessitava di spazi e viene detto esplicitamente che già nei letti presenti nelle crociere c'erano due ammalati per letto con grave disagio si dice degli ammalati e possiamo immaginarlo insomma questo questo disagio. Quindi grandi spazi aperti fra di loro e convergenti verso un ottagono centrale nel quale era collocato come del resto nella grande di milano come altrove un altare verso il quale tutti gli ammalati potevano guardare. Ecco questa è una fotografia dell'interno di una delle crociere insomma dell'ospedale di san marco vedete è un punto appunto in cui i bracci dell'ospedale si incontrano con l'altare di riferimento al centro come come vi dicevo. E ancora un'altra fotografia precedente alla demolizione dell'ospedale presa dall'alto della torre del palazzo delle poste vediamo il campanile della chiesa di san marco così come appariva prima del rifacimento novecentesco ad opera dell'angelini e sotto immediatamente alle spalle del campanile vediamo proprio i bracci della crociera dell'ospedale i cortili interni e anche il lungo affaccio sulla piazza allora baroni che poi diventerà piazza della libertà. Di quella grande magnifica importantissima struttura per la città che è stato l'ospedale di san marco resta oggi solo la sua chiesa e cioè la chiesa che noi bergamaschi definiamo oggi in tanti modi c'è chi la chiama san marco c'è chi la chiama santa rita ancora ed è legata a questa chiesa anche come vedremo un ricordo di un altro santo santa tonio abate che ancora in questa chiesa si celebra in occasione della sua festa. La chiesa ci appare oggi nell'aspetto che le conferisce l'architetto Giovanni Ruggeri all'inizio del 1700 in che lavori si concludono nel 1710 è un edificio davvero molto arioso in facciata molto elegante nella sua semplificazione di forme dato la piccola struttura. È molto grazioso anche all'interno non mi sento di usare un altro termine non è un edificio altisonante non è un edificio monumentale un edificio piuttosto intimo e caratterizzato da una appunto ariosa ed elegante decorazione settecentesca. Il punto di maggiore interesse a punto di vista artistico ed è un interesse davvero notevole è rappresentato dal soffitto prospettico e decorato realizzato dal Carlo Innocenzo Carloni intorno al 1747. Il Carloni si occupa anche della decorazione della zona presbiteriale ma insomma l'elemento più notevole mi sembra proprio rappresentato da questo soffitto. L'immagine che vi propongo non è bellissima ma mi serviva per farvi verificare proprio la grande abilità di costruzione prospettica dell'immagine e lo sfondamento anche del soffitto secondo un gusto tipicamente barocco e tardo barocco da parte della dell'architetto del pittorio. Il tema evocato nella grande dipinto della volta è la celebrazione di due santi taumaturghi e due santi guaritori che sono San Camillo dell'Ellis e Sant'Antonio Abate. Ovviamente non ci meraviglia questo questo tema perché si trattava come dicevamo di una chiesa ospedaliera e l'aspetto interessante di questa raffigurazione del Carloni che era un pittore che si dedicava largamente alla decorazione dei soffitti delle pareti delle ville nobili e quindi aveva un pennello particolarmente felice nella descrizione di soffitti gioiosi e di sfondamenti spaziali affascinanti è stata la capacità di modulare il suo pennello appunto al contesto nel quale la raffigurazione viene collocata e quindi accanto naturalmente al movimento festoso degli angeli in gloria intorno al redentore e agli altri mediatori compaiono piuttosto contenuti nell'espressione di festosità le due figure appunto dei santi guaritori che dicevamo quindi il Carloni riesce a contemperare le esigenze di celebrazione gloriosa dei santi con la condizione di sofferenza e di dolore nel quale si trovavano le persone che di questo soffitto avrebbero goduto. ecco vi mostro più da vicino il particolare della glorificazione dei due santi e vedete che anche le gambe cromatiche che sono quelle tipicamente settecentesche utilizzate dal Carloni sono in realtà piuttosto ribassate insomma c'è una componente monocromatica piuttosto forte nell'immagine che è quella che serve a stemperare il tono di esultanza dell'immagine stessa. Sul fianco est della piccola chiesa quello che oggi prospetta la via Locatelli sorgeva a partire già dal 1600 un piccolo oratorio oggi demolito che era preceduto anche da un portichetto come vedete bene questo oratorio era detto l'oratorio dei morti perché proprio affacciandosi a questo portichetto gli abitanti della città potevano partecipare alle esequie che venivano celebrate dei loro cari all'interno appunto dell'oratorio. Oggi il fianco della chiesa appare così secondo un progetto di Dante Fornoni che ha voluto recuperare ma naturalmente citandolo semplicemente l'aspetto dell'antico ospedale. È probabile che per la realizzazione del colonnato e della loggia nella parte alta di questa porzione edificio sia stato riutilizzato parte del materiale che risultava dalla demolizione dell'ospedale ma insomma nemmeno questa cosa è certa. Un legame molto forte ha unito la vicenda dell'ospedale di San Marco e la sua chiesa con il convento e l'ospedale degli Antoniani che si trovavano come ricorderete dove oggi è Palazzo Frizzoni. Gli Antoniani infatti si oppongono fieramente all'incorporazione del loro ospedale e quindi della loro attività nel nuovo ospedale di San Marco e riescono a tenere testa a lungo le decisioni delle autorità cittadine fino a quando però nella seconda metà del Cinquecento sono costretti a trasferire la loro attività nell'ospedale di San Marco e accedere gli spazi della comunità stessa alle suore domenicane di Santa Lucia come ricorderete. Per lungo tempo quindi la chiesa di San Marco non è stata celebrata se non in occasione della festa del santo il 25 aprile e come dire l'attività giornaliera di celebrazione invece della messa era praticata all'interno della chiesa degli Antoniani appunto. all'atto del trasferimento dell'attività degli Antoniani e dei loro beni naturalmente presso il nuovo ospedale si trasferisce anche nella chiesa di San Marco la devozione per il santo taumaturgo come del resto abbiamo visto anche nella decorazione della volta della chiesa stessa e con la devozione per il santo si è trasferito in questo luogo anche la pratica della celebrazione della festa di Sant'Antonio Abate il 17 di gennaio come sapete una festa che prevede una serie di attività di contorno insomma le celebrazioni religiose per il santo prima fra tutto appunto la fiera dei cosiddetti Billy Goch che ha una tradizione molto molto antica nella nostra città e la benedizione tradizionale degli animali da tira e degli animali da fattoria che poi con il tempo si è trasformata nella benedizione delle automobili come è noto. ecco questa è un'immagine della demolizione che è avvenuta tra il 1936 e il 1937 degli edifici dell'antico ospedale riconoscete la torre delle poste sullo sfondo demolizione che è avvenuta davvero come dire in violazione di tutte le regole di conservazione e anche direi di buon senso storico. L'edificio che è stato demolito era un edificio quattrocentesco e di questo edificio non è stato fatto nessun rilievo, nessun rilievo di disegni, nessun rilievo fotografico, sono spariti i materiali comprese le colonne quattrocentesche che ne caratterizzavano l'architettura. Insomma davvero una grande violenza che è stata perpetrata nei confronti della città e finalizzata all'erezione di quel palazzo del fascio che all'epoca aveva giustificato appunto una così violenta manomissione di spazi antichi della nostra città. Ecco dall'alto vorrei farvi notare come la chiesa di San Marco sia oggi come dire completamente circondata avvolta da un edificio privato tra l'altro di edificio che viene chiamato casa San Marco che viene edificato nel 1937 su commissione del consorzio economico diocesano e forse questo è il motivo che ci spiega questo come dire assoluta non curanza del pregresso architettonico e questo come dire inclusione completa della chiesa in un contesto di edilizia residenziale. Quindi la chiesa di San Marco viene accorpata nel nuovo edificio utilizzando come elemento di raccordo tra i volumi due campate originali del portico dell'ospedale all'interno. Come abbiamo visto altri dieci campate furono ricostruite sul lato orientale della chiesa proprio lungo la via Locatelli. Un altro edificio del quale vorrei parlarvi così poco più di una curiosità e che si trovava nei pressi dell'ospedale di San Marco è il cosiddetto tezzone del San Nitro. Si trattava di un grande edificio poco più di una tettoia con però spazi edificati annessi che per secoli ha ospitato le greggi di pecore poi mandate a pascolare ai piedi delle mura i cui escrementi servivano per realizzare il San Nitro necessario per la polvere da sparo. Questi edifici che venivano chiamati tezzoni erano distribuiti un po' ovunque nel nostro territorio nel territorio della Serenissima Repubblica ed erano considerati dei luoghi molto importanti perché il fabbisogno di polvere da sparo per le guarnigioni e per l'esercito della Serenissima Repubblica prima e poi dell'esercito napoleonico era costante e via via sempre più impegnativo. Il tezzone di San Marco doveva avere pressa poco questo aspetto, c'era una sorta di grande tettoia parzialmente aperta con spazi per gli inservienti ai lati, spazi costruiti. Tra l'altro all'interno del tezzone in spazi dedicate venivano conservate le baracche di legno smontate che servivano per la fiera annuale. Sappiamo che naturalmente la terra costituiva la pavimentazione di questo spazio ed era una terra speciale che doveva favorire la produzione appunto del salnitro dagli escrementi degli animali. Nel 1821 però poi questo tezzone viene demolito non perché si temesse inquinamento, insomma venisse giudicato inopportuno tenerlo così vicino all'ospedale, alla fiera, ma solo perché dove si trovava il tezzone sarebbe poi passata la famosa strada ferdinandea. Al posto del tezzone qui sulla sinistra viene realizzato un mercato delle granaglie che resterà in funzione per un certo periodo in città. Poco oltre la chiesa di San Marco si trova il palazzo delle poste centrali di Bergamo, un edificio molto importante costruito sostanzialmente a due scopi. Il primo era quello di proseguire nello sviluppo della città dal centro piacentignano verso la collina, verso la base delle mura. Il secondo motivo era quello di dare lavoro alla gran massa di disoccupati che allora si trovava in città. Infatti l'anno d'inizio del del progetto è il 1929, un anno molto significativo a questo riguardo. Progettista del palazzo è stato Angelo Mazzoni che era un ingegnere architetto al servizio dipendente del ministero delle ferrovie in Italia. Mazzoni è stato uno dei più importanti progettisti di edifici pubblici, in particolare di stazioni e di palazzi postali, appunto edifici postali in Italia e anche nel caso dell'edificio di Bergamo ha saputo mettere insieme, tenere insieme le esigenze di rappresentatività del regime con quelle di adesione alle necessità locali. In primo luogo proprio per legare in qualche modo il linguaggio del nuovo edificio alla tradizione che si stava consolidando in città dal punto di vista così dell'architettura nuova, sceglie di definire come elemento di importanza e di rilevanza monumentale lo spigolo del palazzo innalzando la torre dell'orologio che avrebbe dialogato con la torre dei caduti da poco inaugurata nel centro piacentignano e con le torri poi della Bergamo Alta. In secondo luogo sceglie di utilizzare come elemento di rivestimento dell'edificio nelle parti riservate al rapporto con il pubblico, con la cosiddetta sportelleria, una pietra molto utilizzata già nel centro nuovo della città e cioè la breccia di camerata di Cornello e in questo modo riesce a progettare una struttura del tutto nuova rispetto al contesto nel quale si colloca dal punto di vista del linguaggio architettonico ma anche in qualche modo dialogante con il passato. Uno degli elementi che più colpiscono chi osserva l'edificio è la caratterizzazione dei volumi articolati dell'edificio stesso che non viene progettato da Mazzoni seguendo il rettifilo della via Masone sul quale si affaccia la fronte dell'edificio stesso ma articolando l'edificio con sporgenze, corpi sporgenti e rientranti essenziali ma molto definiti. Un elemento di caratterizzazione forte è rappresentato dal colonnato gigante sul quale vengono collocate una serie di sculture delle quali immediatamente parleremo che hanno a che vedere sia con la storia del paese sia con la particolare caratterizzazione del palazzo che avrebbero dovuto decorare. Una cosa importante appunto da sottolineare è il fatto che l'architetto definisce già dall'esterno la possibilità di lettura della qualificazione degli spazi interni. Come dicevamo infatti le parti rilevate con la copertura in pietra sono quelle destinate agli uffici aperti al pubblico mentre le parti rivestite d'intonaco e più lineari sono quelle invece riservate agli uffici. Le quattro sculture che sono collocate sulle colonne giganti in facciata rappresentano quattro momenti della storia d'Italia abbiamo infatti l'Italia etrusca, l'Italia romana, l'Italia papalina, l'Italia fascista rappresentate. I protagonisti, gli artisti che hanno realizzato le sculture sono Nino Galizzi e Giovanni Manzoni. Una cosa curiosa possiamo osservare è che questo Giovanni Manzoni che non era parente di Giacomo Manzù viene però in qualche modo ad essere protagonista della scelta da parte del ben più famoso scultore bergamasco di farsi chiamare con il soprannome Manzù appunto. Cioè Giacomo non voleva essere confuso, visto lo stesso cognome, con Giovanni Manzoni ed ecco perché si fa chiamare Manzù. Un altro elemento che è da notare interessante dell'edificio è il vano che sporge sul fronte affacciato sulla via Locatelli. Si tratta di un corpo di fabbrica di dimensioni minori rispetto agli altri ma molto caratterizzato e già nel progetto questa connotazione particolare dello spazio stava ad indicare il fatto che quel luogo sarebbe stato un luogo speciale. Infatti si tratta, almeno in origine era questa, la sala dove venivano raccolti i telegrammi ed è la sala decorata con i teleri di Sironi. Ecco questo è l'interno della sala dei telegrammi, uno spazio che è stato ripristinato nelle sue forme originali nei primi anni 90 dopo quasi due decenni di abbandono. La sala con il recupero filologico che è stato fatto allora rivela l'accuratezza e l'attenzione direi maniacale che aveva Mazzoni nel progetto di tutti gli elementi del palazzo, non solo della struttura complessiva dell'edificio ma di tutti gli elementi di arredo e di finitura, marmi, scrivimpietti, lampade, orologi alle pareti, sportellerie, tutto viene progettato con grande accuratezza e con grande gusto direi. E tutti gli elementi vengono anche messi al servizio della comodità d'uso degli spazi da parte dei visitatori. Purtroppo oggi gran parte di questi elementi o meglio gran parte della possibilità di godere di questi elementi è impedito dalle necessità di uso contemporaneo del palazzo e devo dire che ahimè anche molti elementi originali sono stati nel tempo alterati e manomessi. Vediamo un attimo, mi scuso per le riproduzioni non di qualità, i due grandi teleri di Sidroni realizzati come vi dicevo pochi anni dopo l'inaugurazione del palazzo ma già previsti nel momento del progetto e del resto Angelo Mazzoni amava circondarsi di artisti rilevanti come decoratori e come colleghi nella realizzazione dei suoi edifici pubblici. I due grandi teleri, per i due grandi teleri a Sidroni viene chiesto di rappresentare le attività prevalenti del nostro territorio in questo modo sintetizzando un po' il significato anche complessivo del territorio bergamasco e quindi Sironi sceglie i due temi dell'architettura dell'industria da una parte e quello dell'agricoltura e della pastorizia dall'altro e due attività prevalenti insomma nella Bergamo di allora così in parte almeno come in quella di oggi. L'artista aveva da poco l'anno precedente a 1933 pubblicato il manifesto della pittura murale nella quale aveva dichiarato la sua intenzione di farsi strumento di educazione di formazione del pubblico che accedendo agli spazi collettivi e osservando le opere disposte sulle pareti e all'esterno di questo edificio avrebbe potuto formarsi e consolidare le proprie convinzioni quindi in qualche misura davvero Sironi si fa strumento della propaganda di regime regime al quale peraltro aderisce pienamente ma certo il tema della pittura murale era un tema molto diffuso in quegli anni e non solo in contesti territoriali come quelli appunto fascista o sovietico vi ricordo per esempio la pittura murale nel Messico socialista di quegli anni. Al di là insomma dell'adesione di Sironi all'ideologia fascista che peraltro gli costò dopo la guerra una sostanziale stromissione dalla vita artistica del paese quello che noi possiamo notare che la qualità molto alta del suo linguaggio riesce ad andare oltre le esigenze di propaganda che peraltro lui stesso condivideva e quindi ecco questa sintesi molto efficace dei volumi delle forme che pur si richiamano alla grande tradizione antica, la citazione dei temi metafisici nelle sue architetture e anche le allusioni di carattere simbolico risolte però in forma estremamente convincente vedete le presenze delle queste due donne un po' fantasmatiche che stanno a rappresentare appunto le figure dell'industria e dell'agricoltura nei rispettivi teleri. La storia dei teleri è stata una storia complessa nel 72 vengono staccati dalle pareti della saletta ormai dismessa e pensate che in quel momento il restauratore era Benigni solo in quel momento ci si rende conto che non si trattava di pitture murali ma di opere su tela vengono quindi staccate dal muro al quale erano state incollate con colla da falegname quindi un'impresa non da poco per essere restaurate e dopo il restauro rientrano brevemente a Bergamo per essere poi trasferiti a Roma presso il ministero della comunicazione che era il proprietario delle delle opere e lì restano per oltre vent'anni fino a quando finalmente Bergamo non riesce ad ottenere la restituzione quindi i due teleri vengono prima portati alla gamec dove resteranno esposti per qualche tempo in attesa che venga ripristinato all'interno della saletta che nel frattempo nell'assoluto come dire dispregio della qualità architettonica dello spazio era stata utilizzata come deposito pacchi demolendo l'antica l'antica la sportelleria originale che poi al momento del ripristino della saletta si è dovuta sostituire con una sportelleria nuova in resina in mancanza ormai della possibilità di recuperare il materiale originale nelle cave chiuse anche l'atrio dell'edificio ci restituisce il senso di un progetto molto accurato e molto elegante per fortuna gli infissi originali sono conservati e questo è davvero molto importante ai fini della percezione della qualità complessiva dello spazio e della suo arredo così come sono conservati altri elementi come i copri caloriferi o anche l'angolo del custode che purtroppo a volte appaiono manomessi per esigenze come vi dicevo proprio di uso degli spazi da parte del ufficio delle poste un elemento notevole è rappresentato dal fatto che tutti gli elementi di illuminazione e non solo dell'edificio sono stati progettati disegnati con la collaborazione di venini la famosa fabbrica veneziana di vetri e proprio per l'atrio del nostro edificio l'allora direttore dell'avenini artista a sua volta vetraio napoleone martinuzzi ha progettato la famosissima scultura della pianta grassa in vetro pulegoso che è una delle opere più note più citate anche ammirate della produzione artistica di quegli anni ma insomma fondamentale è proprio l'articolazione ripeto la cura degli elementi di arredo e di decorazione di queste sale questa era la sportelleria denaro al piano superiore che in origine comunicava direttamente senza elementi di filtro con la sportelleria al piano inferiore che era invece la sportelleria a corrispondenza e anche in questo caso la scultura lampada al centro è di venini sempre progettata da martinuzzi mentre vedete il bellissimo scrivi in piedi realizzato appunto per scopi pratici ma anche decorativi su progetto di mazzo e ancora notevole gli scrivi in piedi sono sempre diversi a seconda degli spazi e questa è una delle caratteristiche del del progetto materiali e disegni diversi per funzioni comuni in ambienti differenziati bellissimo lo scrivi in piedi della saletta dei sironi dei telere di sironi e vi faccio notare anche nell'altra fotografia il particolare dell'orologio anch'esso disegnato da mazzoni ogni orologio all'interno dell'edificio è diverso dagli altri a caratteristiche uniche così come sono unici sono gli unici gli orologi che stanno in cima alla torre della dell'edificio che hanno quelle caratteristiche ore e lancette rosse che caratterizzano molto la torre stessa e vi faccio notare ancora la qualità degli infissi questo invece lo scrivi in piedi della sportelleria corrispondenza al piano terra vedete ci sono delle intrusioni insomma contemporanee che un po disturbano la qualità della del salone ma insomma le manomissioni non sono state solo queste purtroppo e questo invece è uno dei bellissimi copri caloriferi che si caratterizzano l'atrio dell'edificio per chiudere vorrei mostrarvi la serie di lampade che sono state progettate da mazzoni insieme a venini e che sono pezzi unici realizzati specificatamente per il nostro edificio queste sono le lampade di illuminazione della sala a denaro queste invece sono le lampade votive dell'atrio e questa invece è una delle lampade che si trovano lungo la scala di per salire al piano superiore e infine come potete vedere anche all'esterno erano state progettate le lampade queste ahimè in origine dovevano rappresentare dei fasci littori come fasci littori erano ovviamente disseminati sulla facciata dell'edificio poi in qualche modo camuffati nascosti togliendo le bipenne in alto ma insomma restano memoria di un periodo storico molto preciso l'ultimo aspetto che vorrei farvi notare dell'accuratezza con la quale il nostro architetto aveva progettato questi spazi riguarda i vasi e gli spazi nei quali avrebbero dovuto essere collocate senza botaniche mazzoni arriva fino a definire quali specie botaniche avrebbero dovuto essere collocate per integrarsi con la sua architettura purtroppo questo è uno dei tanti aspetti del mancato rispetto da parte dei direttori che si sono alternati alla guida di questa struttura per cui davvero insomma è un po' mortificata la memoria dell'architetto in questi spazi chissà che in futuro non si possa pensare di recuperarla in qualche modo eccoci allontaniamoci un attimo dal palazzo delle poste che peraltro vediamo svettare in questa fotografia probabilmente degli anni 40 nel suo lato occidentale quello affacciato sulla via locatelli che ancora appare largamente non edificata come potete notare il grande grande spazio nel quale pascalano le pecore si trovava fino a qualche anno prima tutto l'orto e tutta la parte di coltivazioni alle dipendenze dell'ospedale di san marco demolito ormai l'ospedale ricostruiti gli edifici che vedete notiamo il palazzo di san marco quello che ha inglobato la chiesa di san marco vediamo il retro del palazzo della libertà una volta dicevo demolito l'ospedale l'intenzione era quella di vendere i terreni di pertinenza dell'ospedale stesso per pagare i debiti contratti per la costruzione degli ospedali riuniti è una vicenda che si è riplicata quasi identica nell'atto poi della costruzione del nuovo ospedale papa giovanni ventitresimo no per il quale per costruire il quale si sarebbero dovuti vendere i terreni degli ospedali riuniti ma insomma non non continuiamo in questa polemica comunque dicevo questo vasto spazio appunto doveva essere messo a reddito allo scopo di pagare il nuovo ospedale in realtà lo scoppio della guerra poi di fatto vanifica questo questa intenzione e quindi lo spazio resta a lungo libero dalla fine degli anni 40 primissimi anni 50 la zona che stava di servizio all'ospedale di san marco si caratterizza per la presenza di alcuni piccoli edifici destinati ad attività di tipo artigianale una volta dismesse quelle ospedaliere e quindi tutto appare un po' abbandonato in questa zona della città fino a quando un imprenditore bergamasco nei primissimi anni 50 decide di acquistare dall'ex ospedale di san marco appunto tutta la vasta zona di servizio nord e vi progetta un grande complesso polifunzionale che andrà ad occupare gli spazi dicevamo dismessi gli architetti a cui viene affidato l'incarico sono enrico sesti nestorio sacchi e federico rota che tra il 1952 1955 realizzano il grande complesso che è caratterizzato proprio da funzioni articolate come sapete quelle commerciali quelle di spettacolo due cinema si aprivano nel contesto di questa di questa struttura abitazioni private e hotel gli architetti progettano corpi di fabbrica distinti tra loro caratterizzati proprio da linguaggi aperture logge diverse ma unificati dal rivestimento in pietra e da una sostanziale sobrietà di linguaggio la realizzazione anche del giardino pubblico davanti a questo edificio ha enfatizzato come dire la loro connotazione non si tratta di architetture particolarmente significative direi sono edifici tutto sommato poco interessanti dal punto di vista del linguaggio architettonico ma certo è stato particolarmente come dire grave la decisione di affidare ad un imprenditore privato tutta quest'area perché questa era l'area che appunto avrebbe dovuto in qualche modo costituire un filtro tra il centro cittadino e gli spazi ai piedi della collina fino alla funicolare grosso modo invece poi questo tipo di scelta di privatizzazione degli spazi ha determinato una impossibilità di uso pubblico degli stessi che tutti noi conosciamo molto bene gli stessi giardini che stanno davanti a questi edifici di fatto non sono usati dal pubblico in modo particolare se non per costeggiarli durante una passeggiata passeggiata che io vi auguro di fare da soli o in compagnia insomma delle persone che vi sono care e spero che le mie parole vi siano servite per guardare con occhi più consapevoli e più interessati questi spazi ristretti ma sono ancora così importanti della nostra città vi ringrazio dell'ascolto che avete voluto prestarmi e mi auguro di potervi incontrare nuovamente queste come al solito sono i miei riferimenti se volete contattarmi lo potete fare attraverso vari canali di nuovo grazie grazie